Oggi vi voglio parlare di scambiatori a fascio tubiero direte finalmente parli sempre di scambiatori a piastre lo so scambiatori a piastre mi hanno sempre affascinato però ci sono delle applicazioni dove lo scambiatore a piastre non ce la fa assolutamente volevo parlare di scambiatori di calore a fascio tubiero applicati nella cogenerazione di cogenerazione si sente veramente parlare tantissimo e credo che sarà sicuramente argomento di uno dei prossimi video andremo a parlarne in modo veramente molto approfondito perché è un argomento interessante la cogenerazione consente di produrre dice il termine stesso cogenerare ovvero produrre energia termica energia elettrica contemporaneamente ma veniamo a noi parliamo di scambiatori a fascio tubiero uno dei recuperi che si fa tipicamente negli impianti di cogenerazione è il recupero dai fumi esausti dei motori gli impianti di cogenerazione solitamente sono composti da un motore endotermico a gasolio a gas che emette in funzione un generatore elettrico il generatore elettrico produce corrente elettrica e dal motore endotermico si vanno a sfruttare le energie termiche ovvero si recupera il calore generato dal motore tutti quanti sappiamo che le nostre autovetture hanno un radiatore che smaltisce dissipa il calore generato dal motore altrimenti il motore salirebbe di temperatura non potrebbe più funzionare cosa si fa si prende l'acqua calda che circola nel motore che quindi si riscalda la si fa passare in uno scambiatore in questo caso a piastre e si recupera quell'energia producendo dell'altra acqua calda ma un motore endotermico produce dell'altro calore e questo calore è quello generato dai fumi di scarico ed è una percentuale di calore molto elevata che quindi merita di essere sicuramente recuperata anche perché i fumi sono ad alta temperatura tipicamente 600 650 550 gradi dipende ovviamente questo è il motivo per cui bisogna usare uno scambiatore a fascio tubiero sono scambiatori molto particolari solitamente a fascio tubiero a tubi dritti scovolabili perché perché i fumi per quanto puliti contengono sempre un po di pulviscola da combustione un po di particelle da combustione quindi hanno necessità ogni tanto di essere puliti quindi tubi dritti scovolabili mantello esterno e solitamente si realizzano in acciaio inossidabile perché soprattutto le due testate e i tubi perché perché i fumi di combustione che siano da gasolio biogas metano possono contenere degli elementi acidi che vanno a corrodere il materiale dello scambiatore soprattutto lavorando ad alta temperatura di conseguenza questi scambiatori vengono realizzati per la parte a contatto coi fumi sicuramente in acciaio inossidabile la parte esterna ovvero il mantello può essere in acciaio carbonio bisogna fare molta attenzione perché questa costruzione richiede alcuni accorgimenti particolari ad esempio tutti i tubi sono saldati e mandrinati sulle testate non basta solo mandrinati perché le dilatazioni termiche potrebbero portare a uno distacco del tubo dalla testata e quindi perdite sul mantello tipicamente viene installato un compensatore di dilatazione perché perché nel mantello viene fatta scorrere solitamente l'acqua con la quale si recupera l'energia l'acqua da riscaldare che ha temperature decisamente più basse diciamo che può arrivare a 90 gradi benissimo con i fumi a 600 voi capite che la differenza di dilatazione tra il mantello e i tubi è molto elevata di conseguenza è sicuramente necessario installare un compensatore di dilatazione un tempo si utilizzava mettere delle testate smontabili ma queste potevano essere o in acciaio carbonio o in acciaio irossidabile si facevano anche tranquillamente in acciaio carbonio con spessori elevati anche perché avevano un costo di sostituzione contenuto e si potevano come dire eliminare attualmente le testate sono quasi sempre eliminate a favore di tubazioni dirette dallo scarico al silenziatore anche perché queste tubazioni diciamo che hanno un costo di sostituzione molto contenuto nel caso in cui si dovessero corrodere o rovinare costano sicuramente meno di una testata e di conseguenza quando si fa fare manutenzione o siano delle perdite non si fa altro che sostituire l'eventuale tubo corroso che si è danneggiato. Interessante questo argomento vero?